I commercianti giustamente vanno in crisi e chiudono perché la gente non compra, la gente non compra perché non ha le risorse. Mi scusi ma lei da quanti anni fa il sindacalista? Da 37 anni. Da 37 anni, allora se in 37 anni non ha combinato un cazzo perché sta ancora qua a parlare? Allora, intanto noi non possiamo sentire male. Zunino, la prego di mantenersi però con un linguaggio consono al mezzo, diciamo. I amicilli della sua forza non do neanche una risposta, perché se lei conoscesse la mia storia si andrebbe a sciacquare la bocca nell'arandino, capisce? Oppure si metterebbe la testa nello sterco, che forse è il posto in cui starebbe dentro. Cortese Zunino, per favore, manteniamoci entrambi. La prossima volta che invita personaggi di si fatta specie, me lo dica prima, perché evito di perdere il tempo prezioso. Questa è la sua capacità di rappresentare i cittadini. Allora, io vi chiederei di mantenere il dibattito nei limiti dell'educazione. Secondariamente, manteniamo il rispetto per le rappresentanze e per le persone che ognuno rappresenta. Avere combinato poco. Allora, il fatto che sia stato combinato poco negli ultimi 40 anni è sotto gli occhi di tutti. Per cui è inutile stare a fare sempre le solite chiacchiere, perché queste chiacchiere sono quelle che hanno scoperto la gente. La saluto perché non ho nessuna voglia di compromettermi con personaggi di bambini. Bravissimo, questa è la solita moda. No, 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 questo non è una moda. Tutti saltano fuori dai comprometti. Cortese, mi sembra che le sia dato. Bene, mi serve per arricchire reciprocamente le posizioni. No, no, ma guardi. Noi aspettiamo che gente come lei si accomodi perché vogliamo spazi di democrazia diversa. Sì signore, senz'altro, senz'altro, sì signore, benissimo, perfetto, buonasera, rivederla. Cortese, io penso che lo spazio per intervenire c'era. Lei mi ha detto che andava bene in dibattito, io mi offro. Mi spiace, naturalmente mi spiace.